Innanzitutto prima di creare l'effetto della lacrima dobbiamo creare il colore tipico dell'occhio commosso, infatti quando si piange l'occhio appare arrossato, quindi la sclera che tendenzialmente è bianca cambierà il suo colore e assumerà un colore rossastro. Questo perché avviene? Perché sulla sclera ci sono dei capillari che quando si piange si riempiono di sangue e attribuiscono quindi a tutta la superficie dell'occhio un colore rossastro. Quindi per prima cosa dobbiamo andare a creare proprio questo colore andando ad intensificare la parte mediale dell'occhio che è la caruncola lacrimale. Questa parte tra l'altro è già molto pigmentata di suo, è una parte tendenzialmente rossastra che però noi andremo ad intensificare proprio per dare un maggior risalto, per contrastare maggiormente questa zona. Grazie. Grazie.